... Allora iniziamo Buonasera a tutti Benvenuti Io vi ho appunto il benvenuto Vi ringrazio di essere qui oggi Alla presentazione di I più soldi del purgatorio di Paolo Piani Che poi è il sequel di Un povero diavolo Il suo primo libro Vi ringrazio Paolo naturalmente Per essere qui oggi E anche per avermi evoluto insieme a lui Io sono Marco Mignola Io sono responsabile Di un'agenzia formativa Che Nell'ambito della quale realizzo Dei corsi di formazione personale E professionale Proprio nell'ambito di uno di questi corsi Per l'appunto un corso sul parlare in pubblico Ho avuto La fortuna di conoscere Paolo Questo è venuto ormai qualche anno fa E come spesso succede Quando si preparano i miei corsi Ci si conosce E si condividono interessi e passioni Diciamo che con Paolo è stata immediata La passione per la lettura Solo successivamente Perché Tra l'altro è anche la persona Riservata Ho scoperto che lui non soltanto di leggere i libri Ma anche di scrivere E io ho la passione per la lettura Come penso molti di voi Di libri gialli in particolare E sono abituato Sono un po' tutti obbligati A leggere libri Che sono spesso Stranieri Scritti da americani In cui I protagonisti Normalmente hanno Il cliché Proprio dell'investigatore O del detective Molto Bravo Super Un sacco di caratteristiche positive Il detective È normalmente molto intelligente Molto bellissimo Molto bello Eccetera Eccetera Il Quando Stai pensando Sì, sì, è il mio Esatto Quando Paolo Ha scritto Povero diavolo Io Immediatamente L'ho letto Questo libro L'ho letto Di valentità Senza grandi aspettative Come si fa Quando Ci si approccia A qualcosa Completamente nuovo Non si conosce Neanche quadrato Vabbè Però Era A parte quello Era sicuramente fuori Dall'ordinario Però Almeno quella Era mia Poi esperienza Quindi E invece Surprendentemente E positivamente Quando Ho letto Io Questo libro L'ho letto Vedere una settimana Considerando Come molti di noi Durante la giornata Non durante le vacanze Ma in periodo laborativo Quindi Non è che Vengo tutto il tempo Che volevo Da dedicarmi Però L'ho letto Veramente Molto La svetta Perché Mi ha Appunto Sorpreso Mi ha sorpreso Positivamente Per tutta una serie Di ragioni Legate A Per differenza A quelle Era Le mie abitudini Quindi Quando poi Ti trovi Un qualcosa Che abbina Che abbina Il giallo Che ha tutte le caratteristiche Del thriller Del giallo Che ha L'aspetto Della L'investigazione Il crimine Antidiolento Se vogliamo Anche Anche pauroso Molto 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 più Umano Rispetto Agli altri Molto più Vicino A quella Che era Nostra Esperienza E Italianità Se vogliamo Per certi Pezzi Quindi Molto più Simpatico E Molto meno Bravo A fare Il suo Lavoro Chiaramente Però Il risultato Comunque Lo tiene In qualche Maniera Ecco Questo era Il Un povero Diablo Quando poi Vado Mi ha detto Sai Marco C'è Il procinto Sto scrivendo Ho finito Di scrivere Ho uscito I custodi Del purgatorio Allora Lì Qualche Aspettativa L'avevo Perché Questo Mi era piaciuto E Vediamo Se è stato Così Bravo Da riflettere Sì Aspettare Il parco Esatto Lì Molto più Severo Molto più Potete immaginare Mettere uno Scrive il secondo Già si immagina Che Previti Esatto Poi ora Io Non parlerò Molto A lungo In senso E poi Mi piacerebbe Lasciare una prova A Paolo E fargli Alcune Dovalande E sicuramente Anche voi Avete Qualcosa Da chiedergli Però I custodi Del purgatorio Le mie aspettative Dicevo Erano già Più alte Erano già Maggiori Perché Bisognava ripetersi In qualche maniera E Lo dico Senza Io sono stato Peraltro La prima persona Che questo libro L'ha toccato Prima di me Prima di lui Perché Lo dovevo leggere Che c'era da fare Una presentazione E io Dico E dicevo A me Mi è arrivato Per cui Mi è espresso Direttamente In ufficio E Ho iniziato subito A leggere E anche questo L'ho letto Velocissimamente È veramente Un grande Con una trama Che ti prende Fin da subito Con i personaggi Che conoscevo I due libri Questo è il sequel Naturalmente Però Sono due storie Completamente staccate Rimane l'ambientazione Firenze Provincia di Firenze Toscana Più in generale Rimangono i personaggi Che è il solito Il gruppo Che Di amici Intorno a Simon Che è il protagonista Ma sono due storie Completamente diverse Ecco Cosa c'è di nuovo In quest'altro In quest'altro C'è sicuramente Una Per quello che Me ne intendo Insomma Una Maggiore maturità Da parte di Paolo Nella Nella scrittura Proprio Nella capacità Di descrivere Di rappresentare Le scene Le situazioni Se diamo Una maggiore attenzione In questo Mentre il primo È molto Ricco di effetti speciali Ed è bello per questo Perché è molto legato Al fumetto Che è una grande Passione di Paolo Il secondo È A mio giudizio Ancora più completa Quindi diciamo La prova L'ha superata Pienamente Per quello Che può essere Il mio giudizio Di lettore Poi Questo sono Di più È una storia Molto Molto Avvincente Diversa Dalla prima Diversa dalla prima Cosa resta? Resta Restano alcuni aspetti Che sono fondamentali Secondo me Allora Il primo È Il fatto Che questo Che questi Romanzi Questi gialli Sono Ambientati Nella nostra Firenze Quindi per noi Hanno qualcosa Di ancora più Particolare Rispetto a un lettore Altro Questo Possibile Potrebbe essere Al più limite Perché a noi Sicuramente colpisce Una storia Girata a Settignano Una scena Che ci racconta Di un insegnamento A Settignano Piuttosto Che a Rifredi Piuttosto Che in una Non è la Firenze Quella Da Da cartolina Che normalmente Troviamo Lo so Piazza della Signoria Pontevecchio Bloghi Anche utilizzati Anche da Industri Diciamo Colleghi Dan Brown In voi La Firenze Più vera Più nostra Qui ci sono Attori Frentini Veri Insomma Con situazioni Veramente avvincenti E anche molto Dan Brown Ricordo Un anello Un anello Se puoi Perchè Il La La letto Ti hanno Amato Non c'era No Ho potuto Cambiare una cosa E poi dopo L'uscita Di inferno Perché sembrava Deve Lo spiegare Allora Stiamo dicendo E' una Firenze Più vera Una Firenze Più vicina Anche alla nostra Potenziale E' una Firenze Mi spostano Insomma Nell'interno Continuamente E E quindi Questi 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 personaggi Poi Quando vai a Leggere Questo libro Qua Per uno Come noi Ci vive In queste zone E' molto Simpatica L'idea Di immaginarsi Veramente Strada Per strada Il Tragetto Che sta facendo In quel momento Il protagonista E' molto vicino La nostra esperienza Allo stesso tempo Il libro è anche molto Che ci fa sorridere Non c'è soltanto L'aspetto Del giallo Tradizionale Ma c'è anche L'aspetto Comico A volte di comicità Pure Sono delle pagine In cui Ti trovi Mentre leggi A sorridere Come un vischero Mentre leggi i libri Diciamo Che Stefano Era un giallo Ma in questo momento E' divertentissimo Sono delle scelte E poi Un ultimo Aspetto Che vi faccio Sottolineare Per chi è Tifoso Della Fiorentina In particolare Non vedete Puoi uscire Da un'altra cosa Non siamo Ho già comprato No C'è ancora Non l'ho pariato Quindi posso anche Lasciarlo C'è anche Questa Questa Diversione C'è anche Questa professore Che è la dimensione Del calcio Che comunque Fa parte Della Fiorentinità Se la vogliamo Dire così E quindi Però anche in questo caso Molto particolare Si fa riferimento Più All'aspetto Di passato O A situazioni Anche se C'è la Allora a Paolo A darci Lo suo Commento A questo Suo secondo Lavoro E in particolare Direi Quanto è stato Difficile Ripetersi Perché Immagino Che Non è stato Non è stato Non è stato Lo sì Facile Ripartire Da zero Dopo E' Scritto Il Timorino Assolutamente Assolutamente Ti rispondo Subito A confermare Quanto ha detto Lui all'inizio Tra i ringraziamenti Del secondo Ringrazio Appunto Marco Pignolo Della Noma Academy Di Firenze Per aver limato Alcune carenze Personali Del sottoscritto Abbiamo fatto Un corso Per parlare In pubblico Spero Che l'edito Si possa Fare Tutta Figurata Ora si Interessa Anche Marco Il fatto A quanto mi dici Che Ma anche Gli altri lettori Che comunque Mi hanno dato I primi Resoponti O su facebook O amici Insomma Che hanno letto Il secondo E che sono Comunque Entusiasti Della seconda opera Mi gratifica tantissimo Perché è stato Particolarmente difficile Scrivere il secondo Nonostante sia più corto E io tengo Una statistica Precisa Cioè Chi mi scrive Su facebook Per l'email Facendo me Recensioni Vari Siamo a 18 Che preferiscono Il secondo Contro 7 Che preferiscono Il primo Per ora Dico loro Che l'hanno Non è Prefinito Quindi Comunque Io mi sono schierato Nei sette Perché il primo È il mio romanzo Dal cassetto Quello L'ho meritato Per tantissimo tempo Il materiale Praticamente Quando ho iniziato A scrivere Ce l'avevo già tutto In testa Mi mancava proprio Soltanto Il là Per partire Per puntarlo giù È venuto giù Quasi In automatico Non che Sia però Una cozzaglia Di idee Che è veramente Soltanto Io vengo Dal mondo Del fumetto E In particolare Ho fatto Sceneggiato Del fumetto Sceneggiato Del fumetto Che è Equiparabile Alla sceneggiatura Proprio in generale Che sia cinema Che sia anche Appunto Per un'opera Letteraria Di questo tipo Quindi Le idee Che avevo accumulato Per questi anni Le ho cercato Di metterle Secondo le regole Che mi avevano insegnato Dal corso Sceneggiato Del fumetto Cercando Di Appunto Dare una linearità E Evitare Capitoli Che potevano essere Più o meno Noiosi Proprio Mentre cercavo Di fare questa cosa Mi è venuto in mente Che un minimo Di umorismo Poteva aiutare Nei capitoli Un pochino Più Pesanti Magari quelli Dell'indagine Poi Il personaggio Simpatico Divertente Mi ha preso E allora Forse La parte ironica Divertente È addirittura Superiore A quella Del Giallo In ogni caso Insomma Questo era Il mio Libro del cassetto Questo nasce Grazie a uno scherzo Che ho subito L'idea Appunto Che vi dicevo Che mi serviva Per partire In là Per iniziare a scrivere Viene da uno scherzo Dopo Una rimpatriata Con i compagni Delle elementari Mi hanno mandato Delle foto E dietro la foto Di gruppo C'era un fantasma C'era l'ombra Di un bambino Era uno scherzo Semplicemente Però vederla È stata abbastanza Impietante Perché insomma Pensate Quella vostra foto Delle elementari Con l'ombra Di un bambino Dietro Effettivamente Era semplicemente Uno scherzo Però Avevo già iniziato A meditare In quella direzione Cioè Un qualcosa Del passato Non risolto Che poteva tornare A distanza Di una trentina D'anni E quindi Diciamo La trama Di un povero diavolo È basata Proprio Su questo C'è Questa Rimpatriata Tra amici Appunto E Rivedersi Dopo tanti anni Però anche Riaprire Un qualcosa Di risolto Che piomba Prepotentemente Di nuovo Nella qualità Quindi Questo Diciamo È stato piuttosto Semplice Da scrivere Quello no Infatti Nonostante sia più corto Ho servito Un anno e mezzo Questo ce l'ho fatto In un anno A Dietro Quello lì Un anno e mezzo Perché Innanzitutto Perché Volevo cambiare Un minimo genere Questo parla Come ha antecipato Marco Parla moltissimo Di fumetti Di Altre mie passioni Volevo estragniarmi Volevo proprio Anche personalmente Mettermi alla prova Per vedere Dove potevo arrivare E quindi Ho iniziato a documentarmi Su un argomento Che magari Se non mi pare Che sono i vampiri energetici Non so se ne avete mai sentito parlare Comunque È un argomento Che in Italia Se ne parla Circa dal 2004 Io l'ho approfondito Ho letto Alcuni testi E Questo è il piccolo Orale E Appunto Ho letto alcuni testi Riguardo a questi Ampli energetici Che sono Personaggi Della nostra Potedialità Che hanno Il potere Di assolvere Le nostre energie Positive Via via Che mi documentavo Vedevo Che sono persone Proprio Che odio Normalmente Tendo A eliminare Della mia Però Purtroppo Puntualmente No Imposidianamente Sporreggio Sul mondo Del lavoro Presente No 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 Scusi Scusi No No La cosa può essere reciproca Esattamente Assolutamente Effettivamente Erano personaggi Che Stavano particolarmente Antipatici Quindi L'idea Del secondo libro Era appunto Affidare In gestione Al cattivo di turno Queste mie antipatie Renta Parangularmente Violente Magari Pensando Proprio Al momento Glù Della rabbia Quando Determinate persone Potessi averle Tra le mani E quindi Inbarnandomi su questo Gli ho affidato Le mie paure E qui appunto Nasce Catone Che è il Il Del secondo libro Però A Catone Si affiancano Un'altra serie Di personaggi Che combattono Lo stesso fenomeno In maniera Di città Volevo fare una domanda Ma posso Perché Ora io non volevo Anticipare Tu bloccami Esatto Se io Rischio di Dire qualcosa Di proprio Però Una sensazione Che ho avuto io Leggendo Il consiglio Il proprietario È che Ad un certo punto I ruoli Si intrecciano Per cui Quello che è Immaginate No il giallo Cioè Il cattivo C'è L'eroe Il buono Che cerca Di combatterlo E ci sono Le vittime O la vittima Del cattivo Che sono Il mezzo Lì non si sa Stanno sospeso Si sa Deremo Che si scrive Ora Leggendo Questo libro Da un certo Un po' C'è qualcosa Che succede Se i ruoli Si scardinano Un pochino E ti volevo Chiedere Conferma Di questa mia Diciamo Sensazione Cioè Non si capisce Più Bene Se Il buono È veramente Buono Se questo cattivo Poi alla fine Non c'è anche un po' Di ragione Cioè Diventa Quasi simpatiche E Se le vittime In qualche maniera Se la siano Un po' Cercate Perché Sono vittime Un po' Scelte bene Ecco Non sono proprio Vittime innocenti Al cento per cento Ti volevo chiedere Su questo Su questo meccanismo Se Me lo conferme La sensazione Hai Involto esattamente Nel segno Infatti Mi baso sempre Sui primi commenti Di cerchi Alla fine Le persone Sono un po' Spiazzate Proprio Su questa cosa Ha detto Marco Quindi evidentemente C'è Ma è proprio L'effetto Che volevo creare Proprio perché Appunto Queste mie antipatie Ne confronto di quelli Che sono le vittime Evidentemente Sono abbastanza comuni No? Magari le proviamo Un pochino tutti Quindi Quando si vede Un po' Alcuno Che comunque A mo' di paladino Perché lui Si erge Proprio a difesa Della popolazione Secondo lui Crede di essere Il giusto Anche se utilizza Metodi un po' Drastici Appunto E quindi C'è questa sensazione Di parteggiare Anche un pochino Per lui In qualche modo E In effetti Se lo sono cercato Non posso Antecipare Nient'altro Ma Ci sono diverse Tipologie Di valpire energetico Se mi darete L'onore Appunto Di leggere Il libro Ve ne renderete conto Di diversi livelli Di pericolosità E Si arriva Anche a dei livelli Proprio di Negazione Di dignità umana E ci sono Qui sembra Che stia parlando Di cose un po' Fuori dal mondo Ma in realtà Io credo Che una volta Letto Il custodio del portatorio Ognuno di voi Sia in grado Di dare nome e cognome A queste persone Del vostro quotidiano Quindi Probabilmente È per questo Che alla fine Si parteggia Un po' Per il cattivo Effettivamente I buoni Sono piuttosto Loschi Quindi Un minimo di sospetto Può venire E le vittime Sì D'accordo E c'è sì Però Insomma Peraltro Se io vorrei fare Un po' Di Autorvitica Tutti quanti noi A volte Rientriamo A che si è Ma non è Una maniera Più soft Nella categoria Dei vampiri E i energetici Per come ce la presentano Tutte le volte Non fa che parteggiamo In doppia fila Tanto Lui aspetterà Nel caso in cui Tutte le volte Che Vassidiamo Le pressorie Con i nostri Problemi Gli togliamo tempo Potrebbero Le energie E attenzione Potrebbero Dedicare Un po' egoisticamente Insomma Quindi L'idea di un vampiro È proprio quella Del vampiro Che succhia qualcosa In questo caso Non si succhia il vampiro Tradizionale Ma si toglie Qualcosa Agli altri Purtroppo Ogni tanto Lo siamo anche noi Siamo arrivando Siamo arrivando Del vampiro Quindi Rimanendo un attimo Sui personaggi Però Volevo tornare Un attimo Sul 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 protagonista E sul gruppo Degli amici Perché è una dimensione Veramente Importante Quella Del gruppo Degli amici Che poi Continua A risolvere La situazione Chiaramente Da solo Probabilmente Non arriveremo Molto Tra il nostro Simon Simon Il nostro protagonista Lei ci ha detto Dove ti sei ispirato A questi Personaggi Meglio dire A chi mi sono Esatto Perché I personaggi All'interno Dei miei libri Sono Più o meno Tutte persone Reali Ci sono anch'io Nel primo Non lo nego Molti di voi So che l'hanno letto Quindi lo sapete benissimo C'è anche Uno scrittore Appunto Che dà Una mano A Simon A risolvere Il primo caso Che è molto più Intregato Da risolvere Quindi Diciamo che Dopo aver incontrato Tutti i compagni Elementari Ho avuto a disposizione Una vasta gamma Di personaggi Da scegliere E Mi sono ispirato A quelli Che mi sembravano Più adatti A A un tipo Di libro del genere Quindi esiste Un Simon Di carne e ossa Purtroppo Non l'ho affrontata Qui oggi Esiste Più in carne Esiste assolutamente E Tra l'altro Guarda Il 6 Il 7 E l'8 Di dicembre Inizeremo Le riprese Dei book trailer Di altri libri Sì esatto Che cos'è un book trailer Un trailer È esattamente Come un trailer Di un film Quando ti fanno vedere Dei piccoli spezzoni Del film Con attori Però Il regista Appena ha visto Simon Ha detto Nessuno è in grado Di interpretarti Lo fai te E quindi ci sarà Quello vero Che naturalmente È completamente diverso Cioè È una caricatura Lui è nella vita Diciamo non fare L'investigatore privato Però non è Ascolto Niente È un caricatore Però qui lo conosce Esiste davvero Bene Allora Io non so se voi avete qualche Così Qualche flash O qualche domanda Se voglio un tiro Ci do Tante Vai Come io non ho ancora letto questo Però ho letto Tutti Dico e Dan Brown Qual era Ah Tutto E Quando parlavo prima Della setta Che agisce Contro i vampiri energetici In maniera Gli avevo vestiti Con le maschere Del domino milanese E del domino veneziano Appunto Che utilizza Dan Brown All'inizio Quindi Stavo ancora Correggendola Quando ho letto inferno E ho cambiato le maschere Semplicemente Perché sembravano Sembravano uguali Ok Però Non potevo Cioè non avevo letto Le pozze di Dan Brown Era impossibile Quindi insomma In tempi C'era Questa è bella Della polentica Io Dan Brown Che serraba Paolo Piari Mi ha copiato Cioè non c'era Che stava bella E' un po' Un canale Che c'era E' un po' Esatto E' quello da posta A Firenze Dopo Albano Albano Un po' Un po' Un po' Un po' Un micro Jackson Dai Era sceso prima Il suo Quindi a questo punto Non c'era Potevo testimoniare Potevi testimoniare Allora senti Paolo Allora Io ti chiedo di Firenze Della Fiorentina E' certo Allora Firenze è Comunità Questa C'è questa Ambientazione Però una botta sua Un'articolare Dicevo dire Cioè non la Firenze Da cartolina Ma la Firenze Di Centigliano Di Comerciano Di Bifedi Pintostamente Pontassiere Pontassiere Firenze Sono concentrato I peggiori criminali Di Firenze Nella zona sud Ma questo è stato Proprio Un motivo Mio Personale In quanto Perlomeno Abitavo di studiare Anche i vari percorsi Erano Sono le zone mie Che meglio conosco E che magari Ero più in grado Di descrivere Senza impegnarmi Troppo Quindi Sicuramente Il motivo È questo E la Fiorentina Sicuramente Caratterizza Il questo Se vogliamo Come protagonista Un Fiorentino Vero Non si può Prescindere Della Fiorentina Ma è comunque Anche una mia Passione Io abito A 300-400 metri Dallo stadio Quindi Da quando Ho dei ricordi La domenica mattina Mi passa una persona Con le bandiere viola Accanto alla finestra Ho visto La mia prima partita All'età di 4 anni Sulle ginocchia De mio padre Quindi insomma Era una mia passione E nel DNA E nel DNA Assolutamente E poi Voglio dire Dovendo caratterizzare La Firenze Di periferia Una bella panchina Con la scritta Lube Da livello E dove ci troviamo Questo Sicuramente Anche No scusami Anche Maria di Rosseto L'hai caratterizzata È un altro luogo Che conosco bene Ci ho lavorato Tre anni e mezzo A Rosseto Te lo dicevo Altra E quindi Dovendo Mandare Simon In trasferta Non ancora Per l'indagio Tra inizio libro L'ho piazzato lì Perché Proprio per lo stesso motivo Per esperienze Sì Sì Poi Te l'ho raccontato Che di quell'aneddoto Ora Non posso anticipare Eh sì È vero È vero Sì Ho capito Purtroppo Non possiamo dire di tutto Non troviamo la soddisfazione Di andarlo a leggere Peraltro Io penso L'ora Come? Non mi può dire L'assassino Il maggior domus Anche perché Molti di voi So che Hanno letto il primo E sarei anche avvantaggiata Perché sei andato il secondo Sì Ah già Poi Silvia Che mi ha aiutato Nella stesura Ha fatto Lavoro di editing Quindi Ha dato anche diversi consigli Proprio sulla trama All'inizio Quindi Sì Sicuramente Hai recuperato La tua esperienza Anche di Sceneggiatore Di fumetti Assolutamente Ecco E poi fondamentale Nella I due romanzi Sono molto diversi Come tipologia Di storia Ma l'architettura È la stessa E quanto mi hai detto Appunto Questo l'ho letto Una settimana E questo ancora meno Lo so che ci ha messo Ma perché dovrei Di metterci La letto Significa Che l'architettura Del romanzo Funziona Nel senso Ci sono tutta una serie Di regole Non è che Un giallo Come un altro tipo Di romanzo Ci si può mettere Lì Buttarlo giù Assolutamente Devi sottostare A tutta una serie Di regole Se vuoi Catturare subito L'attenzione E mantenerla alta Fino alla fine Sono cose Appunto Che ti insegnano La sceneggiatura E che ho applicato Nello stesso E identico modo In entrambi I romanzi E da quello che dici Funziona Funziona Quindi Faccio un piccolo spot Perché Fa un po' di Natale E quindi io penso Lo io Io James Veramente Se Regalare un libro È sempre Gravo Penso Straordinario Perché comunque È qualcosa Di particolare Però Se avete qualcuno Che Ripeto Ama i gialli È il momento Di tirenze Mi piace il calcio Lo accontentate Sicuramente È veramente Un regalo Un regalo Perfetto Quindi è buono Da leggere Ma è anche Da regalare Come Come libro E però Ti volevo chiedere Un'altra cosa Ti volevo chiedere Uno Due È pensabile È Stai lavorando Non c'è due Senza tre Ma un qualcos'altro Perché io Lulletti Quindi Sono a pagina 70 Del Triquel Si chiama Triquel Non lo so Comunque Scritto simple Triquel Triquel Cisico Triquel Ma in testa Avrei una quadrilogia Poi concludere E cambiare I personaggi In genere No Però sicuramente I personaggi Comunque Il terzo Il terzo è Comunque Vieni Voglio dire Ora Viene bene Anche Una bella Una bella Una bella Tavola Funtistica Trambi Questi Questi Infatti Non c'è Bagliari No Non c'è Che non vuol dire Perché non glielo avremmo detto Che questi Questi Copertine Sono molto particolari Sono l'opera Di cos'è Che non mi ricorda Di Dragoni Coperti di Dragoni È un'artista Di Arezzo Che è l'esclusiva Appunto Per la collana Giallo Con Della Mauro Pagliaia di Flore Sì E ho voluto Continuare Così Sullo stesso Filone Che mi sembrava Già da anche l'idea Di un sequel Il terzo Poi Vi posso anche Anticipare Quello che Dovrebbe essere Il titolo Sarà Il canto Dello spaventapasseri E ho trovato Una maschera Molto simile A quello Dello spaventapasseri Lì Addirittura È ancora più Più azzeccato Comunque Sì 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 Fai diventare Simon Come Fare un esempio Di un altro Fiorentino Bastato Come Il commissario Cordelli Esatto Esatto Bartolini Ma sai Per ora L'editore Continua a darmi fiducia Evidentemente Lui vende Io mi diverto Hai detto Che l'ha scritto Meglio questo Dopo Ho detto Perché l'altro In fondo C'è la mia Insegnante L'italiano Molto migliorato Sì Potremmo andare A rivedere Le patenine No 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 Guarda Andavo bene Bene Io non so Se volete Fai curiosità Ancora Su questi Video Altrimenti Non deve essere Perché Sceglie Giallo Non è un altro Ma Te mi chiedi Tra l'altro Hai vissuto Con me Negli anni Novanti La mia Prima esperienza Fumettistica Giusto Quindi Se ti ricordi Anche quello Che amavo Disegnare O anche il fumetto Di ufficio Che avevo fatto All'epoca Come te E' uno dei cartini Se non mi parli Era sempre Su questo genere Quindi Io Se leggo qualcosa A 90 su 100 Leggo un giallo O un thriller E E' lo stesso discorso Di Firenze Mi sento più Mi sento più pronto Mi sento più preparato Esatto Anche se è molto più difficile Degli altri romanzi Da scrivere Perché Contrariamente Agli altri romanzi Il giallo Il giallo deve iniziare Dalla fine A scriverlo E poi sviluppare La trama Scoprendola Pezzo pezzo Forse anche quello Che più mi sentivo In grado di fare Visto gli studi Che avevo fatto Però Ennesima passione Ho sempre letto Libri di questo tipo Quando leggo Un giallo Di qualsiasi persona Inizio ora A vedere anche La costruzione Quindi insomma Mi sentivo pronto Per provarci Con questo Ci ho provato Con questo Sto continuando Vediamo Terzo Oh lui Il terzo Intanto Lo legge Di seconda Grazie Prof Nessuna domanda Il foscolo Magari Proffi Anche Custodio del purgatorio Se ci dà Qualche Un Tra l'altro Sono stato A fare Un paio Di lezioni All'istituto Superiore Dove insegnare Professoressa E appunto Ne avevo parlato Lì Nella prima volta De questo Del purgatorio E Appunto Il nome Della setta Di cui vi parlavo Prima Semplicemente Non sto Anticipare I motivi Però Il custodio Del purgatorio È Catone Luticense Quello che Dante Pone A guardia Appunto Delle porte Del purgatorio Che evita Di far passare Le anime Dannate E quindi C'è questa Analogia Simbolica Con Quello Appunto Che fa Il cattivo Che dice Altre domande Ci salutiamo Grazie davvero Di essere intervento Tutto Su un po' Quello diacolo Che c'hai Fai una Facebook E Fai una Facebook E gruppo E gruppo Quindi Chi di voi Quasi tutti Utilizziamo I social media E del Facebook Per far vedere Perché Appunto Dal Come si chiama Il video Dal video Eberà Ah si Quello Quello assolutamente Esatto In poi Da book trailer In voi Se avete tante E tante notizie Sul gruppo Dei lettori Sulla community Che gira intorno A questi libri A pausa In particolare Quindi Se Pliccate Vi piace Su quelle pagine Alare Marrete in contatto E sapete le cose Che si passano Ci sono anche Le foto Dei personaggi Veri Veri O che si tratta Exteri Ispirata E' molto Molto importante Grazie Paolo Grazie a tutti Molti Grazie a voi Grazie a voi